Ciao a tutti amici di Tecnandroid, questa è la prova della videocamera di Sony Xperia Z5 Compact con video girato in risoluzione 4K andiamo a eseguire lo zoom al massimo, zoom 8x è divertente vedere come si riesca addirittura a leggere l'insegna del negozio che è piuttosto lontano vi faccio vedere, questo è praticamente senza zoom anche in controluce, per quello che riesco a trovare la luce perché siamo un pochino coperti dai palazzi si vede comunque abbastanza bene non ci sono problematiche né lag e scatti di nessun genere bene amici Tecnandroid, vi ringrazio per l'attenzione ci vediamo alla recensione completa, ciao a tutti